Successo di misura del Sulmona Futsal contro l'Atletico Celano per 2-1. È stata una gara sofferta più del previsto per i padroni di casa, che con i tre punti rimangono a meno uno dalla capolista Nobel Boys, vittoriosa sul campo della Virtus San Vincenzo Valeroveto per 5-3. Nei peligni assente per motivi personali Elvis Krasnici, si parte agli ordini di Giulio Antoniani della sezione di Pescara, con la gara che si sblocca al quattordicissimo, quando i sulmonesi riescono a conquistare un pallone con Caputo, che avanza e fornisce l'assist vincente per Giuseppe Veneziale, che raggiunge quota 8 nella classifica marcatori. I marsicani provano ad agire subito, mettendo in difficoltà la retroguardia del Sulmona, quando Caputo, nel tentativo di anticipare Contestabile, non si intende con Silvestri, con la palla che colpisce il palo. Al ventunesimo è bravo Morganti a respingere una conclusione a distanza ravvicinata di Petrella e a parare successivamente un tiro di Veneziale. Sul finire di tempo ancora Veneziale, che tenta la botta ma la palla finisce in out, ad inizio riprese il Sulmona fallisce incredibilmente il raddoppio con Caputo, che a porta vuota manda fuori. Gol mancato, gol subito, in quanto istanti dopo l'atletico Celano pareggia, grazie ad una conclusione di disummo che Silvestri non riesce a respingere. Al sesto c'è il palo di Ginnetti e il preludio al gol per il nuovo vantaggio dei Biancorossi, siglato da Ruscitti, ben servito da Ginnetti, ma i celanesi reclamano un fallo di Veneziale su De Turris, con Giulio Antoniani, che ammonisce Piero Taccone per proteste. E il gol del 2-1 che deciderà un match sempre più tiratissimo sino al termine. Nuove emozioni, quasi allo scadere, con un palo colpito da Ruscitti e l'espulsione nell'atletico Celano di Del Vecchio per proteste. Il gioco poi si ferma per un time-out, ma si riprende per pochissimi istanti, con Giulio Antoniani, che fischia la fine e al rientro negli spogliatoi, i celanesi manifestano tutta la loro insoddisfazione nei confronti del direttore di gara. Per il Sulmona continua la serie positiva al palasport Nicola Serafini, che martedì prossimo vedrà di nuovo in campo i ragazzi di Benjamin Fonte per la gara di Coppa Italia contro il Fuzz alla Ripa. Sono contentissimo sia dell'atteggiamento dei ragazzi, sia del risultato, perché non era una partita facile e sono contento anche di come abbiamo lavorato in settimana. È un lavoro lungo, è un lavoro che presuppone tempo e quindi darà i suoi frutti, speriamo che li dia nel meglio periodo sicuramente. Cinnetti, l'appoggio per Ruscitti, la conclusione, nuovo vantaggio.